Buongiorno a tutti, intanto volevo ringraziarvi per il rapporto molto interessante. Io rappresento il Movimento 5 Stelle qui alla Camera dei Deputati. Volevo ringraziarvi e farvi un invito che sempre più spesso si facciano incontri come questo, perché ci sono delle eccellenze italiane, istituzioni italiane che producono dei dati, dei documenti, lavoro pagato da tutti i cittadini e che deve essere pubblicizzato dalle agenzie ambientali pubbliche e non spacciato come lavoro di agenzie private. Spesso accedono ai vostri database e fanno pubblicità con i vostri dati, quindi questa è una battaglia che stiamo cercando di fare. Quindi rendeteli più fruibili e fate più incontri di questo genere perché gli italiani si stanno iniziando a interessare a questi argomenti sempre di più. Sui dati certi, parlava prima il Presidente Realaci, mi sembra che i dati certi ci siano. Forse sono da integrare meglio, ma i dati ci sono e sono più dettagliati a livello italiano che a livello europeo. Quindi non possiamo più nasconderci dietro a un dito per non affrontare la questione del consumo di suolo. Faccio solo una piccola introduzione sulle proposte di legge che stiamo andando a discutere. si è voluto anche qui fare un lavoro parziale e questa devo fare una denuncia, nel senso che volevamo affrontare l'argomento a livello di suolo agricolo e suolo urbano perché ci sembra che uno contempli anche l'altro e invece si è voluto affrontare il consumo di suolo solo dall'ambito agricolo perché non si potevano toccare certi interessi. Quindi non mi sembra che certi interessi sui suoli urbani siano diminuiti, ma ci sono ancora molto le speculazioni, è calato un pochino il lavoro per l'edilizia, ma le speculazioni, il riciclo di soldi continua a esserci e quindi si avranno sempre nuove costruzioni anche senza la necessità. I dati ci dicono che non c'è necessità di costruire, a questo punto dobbiamo prendere una decisione netta e la decisione netta non si prende dal punto di vista politico, ma su dati scientifici. Semplicemente ogni tanto dobbiamo lasciar parlare la scienza e andare in base a parametri scientifici e non prendere sempre decisioni politiche che spesso guardano più agli interessi particolari che agli interessi comuni. Io volevo chiedere sul consumo di suolo cosa ne pensa Ispra riguardo alle varie proposte di legge, se eventualmente avete un'idea. Nel senso che come Movimento 5 Stelle noi chiediamo un consumo di suolo netto pari a zero, quindi che non si vada più a costruire, soprattutto prima si vada a recuperare l'inutilizzato. Mentre molte proposte fanno delle percentuali di consumo di suolo da decidere ogni 3-5 anni, poi sarà da stabilire durante la discussione, il problema è che vedendo i tassi di crescita, per esempio in Spagna, se noi abbiamo ancora 36 anni, arrivare a 2050 quando sarà imposto dall'Europa, nel giro di 10 anni rischiamo di aver consumato tutto il territorio, quindi queste percentuali in base a cosa le decidiamo e soprattutto ogni 5 anni se il territorio è 100 noi possiamo consumarne 10%, tra 5 anni il territorio è sempre quel 100 iniziale. Come faccio a stabilire che ne posso consumare ancora? In base a che principio? Quindi oggi ne dobbiamo prendere una decisione, prendere una decisione, stabilire se abbiamo ancora da consumare e io credo che probabilmente non abbiamo ancora da consumare territorio e decidere che direzione dobbiamo prendere. Non possiamo continuare a rinviare a decreti e a decisioni prese ogni 5-10 anni la nostra posizione. Per l'ambiente direi che sarebbe il caso che si inizia a dare peso alle tematiche ambientali e al Ministero dell'Ambiente. Io vedo che sempre viene messo come secondario, viene dato come una cosa scontata e marginale, invece noi dobbiamo puntare sull'ambiente perché il nostro territorio è la nostra risorsa e quindi la nostra risorsa noi dobbiamo tutelarla. L'ambiente è una base primaria su cui poter creare anche posti di lavoro, l'abbiamo visto con l'eco bonus e l'abbiamo visto anche con incentive all'agricoltura che ci portano a avere meno problemi sul dissesso idrogeologico. Altra proposta, nelle proposte di legge ci sono varie richieste di comitati, consigli vari a sfondo politico per controllare il consumo di suolo. A me sembra che nell'ultima proposta di legge sulle agenzie ambientali che sta passando all'unanimità, noi abbiamo chiesto che ISPRA abbia il compito di monitorare il consumo di suolo. Quindi mi sembra, e chiedo anche a voi un parere, che sia il ruolo di ISPRA quello di controllare, tenere monitorato e fare appunto dei rapporti che ci dicano verso che direzione andare. Quindi non coinvolgere ancora dei tecnici politici che non hanno nulla a che fare con dati scientifici. Ultima cosa, mi dispiace che il presidente Formigoni si è andato, però bisogna avere una certa credibilità per venire qua a parlare. E allora se noi parliamo di Expo, in cui sicuramente è coinvolto anche il presidente Formigoni, abbiamo più di un milione di metri quadri di territori fertili che sono stati consumati per Expo, sotto la dicitura nutrire il pianeta. Allora se ci prendiamo in giro andiamo avanti a fare slogan, battute o facciamo titoli di leggi. Però iniziamo a guardare il contenuto, il contenuto mi sembra che non sia uguale per tutte le proposte. Dobbiamo iniziare a tutelare effettivamente il nostro territorio, non è più tempo per aspettare. Grazie. Grazie all'Onorevole De Rosa. Se mi consente Fabio Terribile completerei il quadro dei commissari. Intanto rispondo poi a De Rosa. Chiamo l'Onorevole Samuele Segoni a intervenire. Abbiamo lasciato la nostra posizione in notava commissione, la faremo avere anche al presidente Mariano, credo che l'abbiamo già fatta avere anche al Senato, comunque anche se non è sede ma anche per avere un raccordo, proprio diciamo quella, proprio durante l'audizione. E questo documento per noi, voi sapete che quando scriviamo non tiriamo mai indietro la mano, cioè al limite incorriamo in tutto ciò che dobbiamo incorrere, ma questo è fondamentalmente la nostra filosofia, la mia filosofia personale. Per quanto riguarda il resto, consentitemi, essendo con la barba più anziana, un po' più vecchia, vi richiamo sempre ad un discorso abbastanza serio che ho messo tra le righe. Non abbiamo ancora tutti gli strumenti per giuricare le politiche, quindi ci vuole un certo tipo di prudenza. Non abbiamo soprattutto gli strumenti complessibili per fare dei bilanci complessivi in cui la componente ambientale tiene conto di tutte le interazioni, che è la finalità principale, sulla quale abbiamo cercato di dare un esempio, bisogna andare avanti. E allora su questo vi sottolineo alcune cose, come sui nitrati, no? I nitrati, l'ho criticato alla Commissione europea molte volte, che sono i nitrati di origine zootecnica, e c'è una direttiva sui nitrati di origine zootecnica, una sulle acque sotterranee, una alla direttiva acque, poi nessuno ha mai fatto un apporzionamento, se effettivamente fosse di origine zootecnica, fosse di origine mineraria, fertilizzanti, collegati poi a tutto l'uso dei pesticidi e altre cose, e non è mai chiesto in Europa, lo rivolgo a Marmo, non è mai chiesto in Europa se la Francia ha fatto un discorso di real apporzionamento, ha fatto un discorso complessivo, se l'ha fatto la Germania, se ci siamo confrontati a livello di paesi europei, su dove stanno gli handicap e dove sono i vantaggi. Cioè quello che cerco di sottolineare, anche sull'uso del suolo, se avete visto, c'è un dato sulle infrastrutture viarie, che però sottolinea un peso, ma anche un peso particolare, sottolinea ad esempio il peso moltissimo delle infrastrutture minore secondarie a livello urbano, rispetto a quello complessivo, un 17% se va da memoria, mi ricordo. Allora, dobbiamo in qualche modo, questo è il compito di Ispra, offrirvi tutti quei dati rispetto ai quali si possa fare dei bilanci sufficientemente consistenti. Questo credo che sia il compito, e mi rivolgo al disegno di legge, non tanto di Ispra, ma del sistema agenziale è Ispra, dove Ispra coordina, se mai, a questo ruolo di tenere insieme un sistema distribuito, ma vi sottolineo, una delle importanze fondamentali è l'articolo 9 del disegno di legge, quello sul sistema informativo nazionale ambientale. Quell'articolo è la base per cui noi abbiamo uno strumento per fare quello che l'On. De Rosa chiede ad Ispra effettivamente di fare, e quindi io direi al sistema agenziale di Ispra di essere certificatori e informatori, anche verso il pubblico e verso lì.